Allora Beppe Grillo, ci incontriamo in un momento che senza retorica possiamo definire storico, la vittoria di Donald Trump che è appena diventato 45esimo Presidente degli Stati Uniti. È la fine di un mondo, è l'inizio di una nuova epoca, come la interpreta? Ma è un bivio, un bivio straordinario perché questo Pannocchia, così affettuosamente chiamato Pannocchia, che si aggira e non ha delle grandi qualità culturali, ma è stato talmente oberato di notizie terrificanti con le donne, questa informazione dell'establishment che lo attaccava, del New York Times, sempre contro le donne, contro il razzista e tutto, non ha funzionato, vuole dire che questo è l'esempio della tragedia e dell'apocalisse dell'informazione tradizionale, televisioni e giornali ormai arrivano dopo, sono un'informazione post-data. Quindi non anticipano niente, non azzeccano più niente e capiscono adesso che gli scemi, i disredati, i disadattati, questi milioni di persone hanno un altro media che è la rete che viaggiano sotto i radar dei giornali e delle televisioni che non vede più nessuno. Allora questo è veramente l'apocalisse di un mondo che finisce, dell'informazione. E' successo esattamente quello che è successo a noi nel Movimento 5 Stelle e a me personalmente quando siamo nati dalla rete, lo stupore dei media, dove erano? Milioni di persone nelle piazze, ma dove erano questi? Si stupivano, sempre dopo siamo diventati il primo movimento in Italia, lo stupore dei giornalisti a sempre dire filosofi in televisione, a dire gestiscono la rabbia, la paura della gente. Andremo a governare l'Italia e diranno ma come hanno fatto? Sono sempre in ritardo perché è finito quel tipo di informazione e l'informazione è il motore che fa andare avanti il mondo. Questo motore è finito, senza benzina e ne nasce un altro. Basta però per essere letti parlare alla pancia delle persone, che tipo di progetto politico è? Nella pancia c'è un cervello a se stante che emette sostanze chimiche importanti, la serotonina, certe situazioni di felicità e di infelicità sono determinate dalla pancia. A volte davanti a una persona sleale, non corretta e amorale non hai altro sentimento come grado di giudizio della pancia. Perché quando sei al tavolo con uno e pale e sai che ti mente e sta mentendo su tutto quello che dice, ti devi fidare dell'istinto. Ma basta poi per governare? Perché tra i discorsi populisti e essere capo di un governo, di una nazione c'è un gap. Ma noi non vogliamo amministrare, noi non vogliamo cambiare il potere con il nostro potere, noi siamo un cambio di civiltà, un cambio di visione del mondo, noi parliamo di industria dematerializzata, parliamo di alla fine del lavoro retribuito, parliamo di reddito sia di cittadinanza sia di universale. Se la nostra società è fondata sul lavoro, come le dicevo prima, se scompare il lavoro, cosa succede? Cosa faremo di milioni di persone, di flussi? Perché dovremmo organizzare e capire i flussi. Cosa faranno milioni di persone senza lavoro? Depressioni, malattie, non si muore più, c'è questa vecchiaia che non finisce più, c'è questa agonia protratta dell'immortalità, cosa faranno? Milioni di persone. Senza captare i malumori senza poi proporre delle riscette concrete, perché poi bisogna essere anche il politico di professione, è una professione, non necessariamente di basso livello. È l'alibi che ha l'informazione di dire voi andate e non avete un piano politico, non siete in grado, siete gli imbecilli, siete i dilettanti e i dilettanti si stanno prendendo il mondo e ben vengano i dilettanti, se la professionista l'hanno ridotto così, perché Hillary, Obama e tutto il resto hanno disintegrato la politica democratica, la loro politica internazionale. Oggi l'America deve fare i conti con milioni di persone in galera, con milioni di persone che non hanno lavoro, con la classe media che è frenata e non ha più stimoli. Allora qui inseriamo delle idee e allora l'idea fa paura, l'idea fa paura, se non fanno parte delle idee vecchie, le idee nuove fanno paura e allora ecco perché hanno paura e allora ecco la denigrazione sui giornali, in televisione, tu hai l'idea di dare un reddito a tutti oppure hai l'idea di riformare il fisco, hai l'idea di togliere le tasse dal lavoro e portarle su chi consuma materia e petrolio. Ci sono i conti pubblici da rispettare, quindi è chiaro avere le idee che poi però non corrispondono alla realtà dei fatti, dei conti pubblici. Ma scusi, i conti pubblici sono conti fatti da gente che ha rubato, che ha mangiato sopra, che ha devastato il bene comune, almeno nel nostro paese è così, ma anche il vostro non è che scherzi, è molto. Quindi vuole dire che tutti i professionisti, tutti gli intellettuali, tutti gli economisti hanno sbagliato tutti, se la situazione è questa, se l'Europa è questa, vuole dire che il sogno europeo è svanito, è svanito, perché il Brexit, questo Trump vuole dire che sono segnali di un grandissimo cambiamento, allora se tu lo sai analizzare lo riesci anche ad affrontare. Bisogna vedere come andrà l'economia, le ripeto, il lavoro senza reddito, sarà senza reddito, sarà oggi i lavori tra vent'anni, quali saranno i lavori tra vent'anni? Le scuole, l'istruzione è in grado di preparare una persona, io ho sei figli per affrontare il mondo fra vent'anni, che lavori ci saranno? Se lei sente i discorsi dei giovani, sentire, vede che parlano di condivisione di esperienze, non parlano di ho la casa, ho comprato questo, parlano, sono sempre collegati tra loro per scambiarsi esperienza, che è la valuta del futuro dei giovani, noi dobbiamo preparare quel mondo lì, che non ci sono i soldi, le case, gli immobili, c'è l'ambiente, c'è la natura, c'è il cibo, c'è il vegetarismo, c'è le piste ciclabili, c'è gli animali, c'è l'ecomondo. Però questi sono argomenti che hanno un certo fascino, soprattutto sui giovani, sono movimenti di tendenza antipolitica classica, però fino adesso c'è stato un limite in questi movimenti antisistema, nel momento in cui accedono al potere o tentano di accedere al potere, sembrano perdere la loro ragione di esistere e la loro capacità. Prendiamo il caso di Tsipras, in Grecia prometteva tanto, è diventato primo ministro, ha deluso moltissimo, prendiamo il caso di Podemos, in Spagna è stato a un passo dal potere e ha dovuto fare un passo indietro. Perché? Perché la mentalità è vecchia, perché pensano che la gestione del potere sia una coalizione, ossia gestire con altri, fare coalizioni con altri. Però il sistema politico è ancora classico. Noi siamo partiti per dare degli strumenti ai cittadini, noi abbiamo un sistema operativo che si chiama Rousseau, uno iscritto manda la sua mail e prende una password, chiunque, qualsiasi cittadino può entrare e essere iscritto senza pagare nulla, trova un sistema operativo che gli permette uno da casa sua di votare regionali, votare i comunali, votare il Presidente e poi proporre e vedere le leggi che i portavoce in Parlamento propongono. Se fanno una legge sull'agricoltura e io sono un agricoltore cittadino, posso inserire la mia esperienza di vita dentro una legge e chi meglio di un agricoltore sa qualcosa di agricoltura? E poi posso anche io, cittadino normale, proporre una legge e i miei rappresentanti, portavoce in Parlamento, propongono una legge magari col mio nome, di cittadino qualunque. Questo è un esempio di democrazia diretta che non si è mai visto al mondo, cosa che non ha fatto né Podemos né Sipras. Allora noi abbiamo la nostra visione del mondo, noi non vogliamo cambiare il potere con un altro potere, vogliamo cambiare la visione di milioni di persone. Che cosa vuole una persona? Che tipo di qualità della vita vuole, perché cambiare dal petrole alle rinnovabili è un passaggio di civiltà, quando tu tocchi l'energia, tocchi le materie prime, togli da dove arrivano, vedi i trasporti che ormai sono assurdi, perché i costi sono esternalizzati, allora affrontare dei temi così è bellissimo e non c'è l'impossibile. Signora io ho fatto con un manager casaleggio che non c'è più, una cosa, io ero un comico, sono un comico, io sono un comediante, io non sono un leader, glielo giuro. Però potrebbe diventare un leader, non ne dà qualche idea la vittoria di Trump? No, perché il leader è il movimento, io posso fingere di essere un leader, ma fincherei perché sono un comediante, il vero leader è il movimento, la gente è leader di se stessa. Quindi lei non ha nessuna ambizione per diventare per esempio Presidente del Consiglio d'Italia? Ma no, ma sbaglia, sbaglia, assolutamente. Chiedo quello che molti si chiedono. Assolutamente, non è mai, allora cos'è l'impossibile, è il possibile, un manager, un comico senza soldi, con un computer, in 7 anni, 7, senza soldi, signora, senza soldi, fanno il primo movimento politico in un paese, era impossibile, tutti dicevano è impossibile, tutti dicono è impossibile e quando è impossibile però sei cosciuto, sei ostinato, arriva, è arrivato pieno di fallimenti, falliamo, io faccio parte di una struttura, di un movimento di disadattati, signora, siamo falliti, il fallimento è bellissimo se lo sai interpretare, è quasi poesia, siamo tutti disadattati. Siete disadattati però siete al Parlamento europeo, quindi come potete agire? Perché abbiamo parlato di crisi dell'Unione europea, una crisi storica, non siamo mai stati ai minimi come adesso in popolarità, in credibilità dell'Unione europea, ci sono dei movimenti che tendono a operare un'implosione interna, come i vostri alleati per esempio del UKIP di Farage, voi avete detto varie volte che non siete interessati alla fine dell'Unione europea in quanto istituzione, ma a un cambiamento profondo, come può agire un piccolo gruppo di eurodeputati per cambiare profondamente l'Unione? Il piccolo gruppo di eurodeputati si fa sentire, ovviamente abbiamo avuto delle complicazioni, dei blocchi nelle commissioni, poi bisogna vedere, lì ci sono le lobby, ci sono le commissioni, il Parlamento decide e non decide, noi facciamo quello che possiamo, noi siamo in linea con quello che è il nostro pensiero di un mondo, di economia circolare, abbiamo proposto l'economia circolare ed è stata presa come esempio di economia del futuro da tutto il Parlamento, l'economia circolare significa che il problema rifiuti diventa un problema di materia prima, cioè come agisce la natura da 4 miliardi di anni, io facevo l'esempio dello spazzolino che si butta via solo il pezzettino e si tiene la maggior parte di plastica e si cambia solo il pezzettino, avere cura, il negawatt, abbiamo termini che sono per me vecchi, ma per i giovani di oggi il negawatt è la forma oggi di transizione da un'energia all'altra, l'efficienza energetica con il negawatt consumo, cioè togliere le tasse dal lavoro e metterlo che consuma energia e materiali, dematerializzare l'industria, ci sono le stampanti 3D, dematerializzare e rendere leggeri, noi vogliamo una tecnologia da 120 all'ora sulle automobili, non una tecnologia da 300 all'ora, vogliamo una tecnologia da 200 all'ora sui treni, non da 300, vogliamo la leggerezza, vogliamo un'economia dell'abbastanza. Abbiamo parlato di crisi delle istituzioni europee, crisi del concetto di Unione Europea, però c'è anche un altro dossier aperto in questo momento alla Commissione, una vera questione etica, l'ultimo caso in ordine di tempo è quello dell'ingaggio dell'ex Presidente della Commissione Barroso da Goldman Sachs, quindi c'è un vero problema di conflitto di interessi da parte di alcuni politici, il Presidente della Commissione Juncker ha proposto di rivedere il codice etico, ovvero di allungare a 3 anni il periodo in cui ex membri della Commissione non possono accedere ad incarichi privati, basta? Ma io queste modifiche all'etica fatte da un ex Ministro delle Finanze, che faceva il Ministro delle Finanze in un paradiso fiscale, ho qualche dubbio. La Commissione non è legittima secondo lei per fare questa riforma? Assolutamente no, anche perché è una Commissione non eletta da nessuno, con un Parlamento non eletto da nessuno, noi siamo, la cosa che ci ha affiliato a Farage è stata la democrazia dal basso e allora Farage è l'inglese… Non è un po' pentito di essersi affiliato a Farage? Ma è stata una questione tecnica per avere dei numeri, poi noi non abbiamo mai… Cioè era una partnership di comodo, vi siete affiliati… Di comodo è vero, tecnica, diciamo per entrare in Parlamento, se no non potevamo entrare. Vi siete aiutati per entrare in Parlamento? Però abbiamo la nostra autonomia. Avete utilizzato Farage come cavallo di Troia per entrare al Parlamento europeo? Ma è lui, lui può darsi, può darsi, però la nostra autonomia nelle decisioni è stata totale, però ci univa questa idea di un'Europa diversa, di un'Europa mosaico, di un'Europa con le autonomie, con certe autonomie, con certe sovranità, noi non possiamo pensare che il nostro sistema fiscale per esempio, che è la politica signora? È la politica, la politica è il tuo sistema fiscale, se il tuo sistema fiscale è bloccato da un'ente o da un'istituzione a mille chilometri dal tuo paese, tu non puoi fare nulla, non puoi spostare, perché come sposti… Però non c'è ancora un'armonizzazione fiscale in Europa, per il momento sono gli stati nazionali che decidono, quindi siamo ben lontani da questo tipo di posizione di Assolutamente, allora che tipo di unione? Io non sono contro l'Europa, sono esattamente contro una moneta unica, sono a favore di una moneta in comune, le parole hanno importanza, comune e unica, sono due concetti diversi, però l'Inghilterra ha dimostrato qualche cosa che noi ancora ce la sogniamo, di fare un referendum chiaro, sì o no. Chiaro nel risultato, ma non nelle conseguenze, in realtà c'è una lacerazione nella popolazione in Gran Bretagna, abbiamo visto i balletti… Guardi, la conseguenza e la responsabilità in questo senso ce l'ha il popolo inglese, l'Inghilterra non è mai stata dentro l'Europa, parliamoci chiaro, la sua stellina se l'è mantenuta… Certo, era un paradiso fiscale, la Svizzera è crollata come paradiso fiscale perché non c'è più il segreto bancario, credo che Londra avrà tutti i benefici del mondo. Pensa che il Brexit sia stato solo l'inizio di un processo, effetto domino? Qual è il prossimo passo? Io queste previsioni di chi le ha sbagliate tutte… Mi ha detto prima che lei sta nel futuro, non vuole stare nel passato, quindi mi faccio una previsione… Ecco, le previsioni non le accetto più da chi non ne ha azzeccato una, io solo accetto un fatto, che un popolo si muova, faccia un referendum che è l'unica maniera democratica di democrazia vera e che il ministro che dica se vince questo mi dimetto, questo è stato fatto, Camero se n'è andato, non fa più politica, chi sono andati a votare, chi non è andato a votare ha sbagliato, perché allora le responsabilità te le prendi e poi questa apocalisse del dopo io non l'ho vista, quella agognata prima del referendum che dicevano… Però qualche danno economico si profila già all'orizzonte. Guardi, vedrà, vedrà, tanto la Banca d'Inghilterra ha detto, noi abbiamo tanti di quei soldi che possiamo bloccare… Però tante banche e banchieri si preparano ad andare… Guarda, io non credo più in questa informazione, quando questa informazione è troppo… Le cifre sono controverse, la realtà dell'informazione non è in dubbio, le cifre sono controverse. Allora, dato che io ho l'informazione, la rete, io mi informo in rete ed è difficile trovare anche dei canali giusti in rete, c'è tutto il contrario di tutto, però è l'unica plataforma che io ho e allora vado a vedere l'informazione di uno o di un ente o di una persona che abbia una reputazione. Quando lei viene a Bruxelles? Viene per aiutare l'Italia o viene ad aiutare ad affossare Renzi? Perché in questo momento le relazioni tra l'Italia e l'Unione Europea e la Commissione non sono al massimo. Renzi si affossa da solo perché innanzitutto è andato a gratificare il perdente col comico scaduto. Quindi sono persone con le quali… Io ho avuto un piccolo rapporto in streaming un giorno, ho capito la persona. Quando le persone sono amorali, quando sono alessitimiche, hanno questa alessitimia. Alessitimia vuol dire che fingono emozioni perché non ce l'hanno e non capiscono le emozioni degli altri. È inutile che io stia a parlare con una persona che non è leale, perdo il mio tempo, mi distrago e mi annoio. È per questo che rifiuta un confronto diretto? Per non annoiarmi? Per non annoiarmi perché io preferisco uno che sia sincero, vero, che sia totalmente contrario a me, lo accetto, magari può anche convincermi che io sbaglio qualcosa, ma una morale, uno che non è leale, non rientra nel mio modo. Leale nei riguardi di chi? La lealtà, la lealtà ce l'hai o non ce l'hai. Io quando parlo di onestà, parlo di onestà intellettuale, onestà intellettuale, no. Rubare o non rubare, non entro in quel concetto lì, è l'onestà intellettuale. Puoi sbagliare, noi sbagliamo, io ho sbagliato, ho sbagliato la scelta delle persone, a volte ho fatto l'arrogante, capisco, accetto le critiche da chiunque abbia una moralità, io ce l'ho. Quindi non mi interessa parlare con persone che siano menomati morali. Allora, il fatto di chi vince o chi non vince, non mi interessa, il movimento è nato per estinguersi. Quando i cittadini avranno gli strumenti per essere attivi e costruirsi la loro democrazia, con le piattaforme, cerchiamo di fare noi, siamo esperimenti. Il movimento non avrà più ragione di essere, che ragione? I cittadini saranno autosufficienti, avranno l'informazione, potranno agire da casa propria, potranno decidere sì o no su una cosa, potranno proporre delle leggi, fare delle leggi, il movimento non avrà più senso. Non le dà un po' fastidio che Matteo Renzi le stia rubando il ruolo di guastafeste in Europa, perché le sta spuntando un po' qualche arma? La critica alle politiche europee, alle istituzioni europee è comunque un suo cavallo di battaglia. Adesso c'è un Presidente del Consiglio che batte i pugni sul tavolo. Quando capisci che è una copia, rafforzi l'originale. Però lo fa da Primo Ministro, quindi può ottenere qualche risultato. Benissimo, se lui vuole fare un referendum sull'euro, se vuole togliere il fiscal compact, era uno dei nostri cavalli di battaglia. Quindi in questo caso lei sta con Renzi contro la Commissione? Assolutamente sì. Sostiene Renzi? Assolutamente sì. De Pegrillo sostiene Renzi contro la Commissione europea? Io sostengo una persona leale e sincera che mi dice che vuole togliere il fiscal compact. Sostengo una persona sincera che mi dice che vuole condividere il debito dell'Europa. Sulle questioni della flessibilità, della legge di bilancio per il terremoto, per gli immigrati, lei da che parte sta? Siamo assolutamente sullo stesso piano. Io non ho dei preconcetti sui progetti, sulle idee, io ho il preconcetto sulla persona. La persona è per conto mio assolutamente inaffidabile, assolutamente, ma non i contenuti. Se i contenuti sono veri e io determino che sono veri, non mi interessa chi li ha messi o chi li ha proposti, li condivido. Il potere negoziale di Renzi in Europa si misurerà anche dal risultato del referendum costituzionale. Chiaramente se sarà quello, come si dice in gergo, Anatra azzoppata o sarà solido ancora nella sua posizione. Ha già perso. Ha perso. Può dirci rapidamente per un pubblico non italiano perché lei sostiene le ragioni del no e quali sono le differenze tra il suo no e il no del centrodestra in Italia? Guardi, cambiare una quarantina di articoli, se non di più, di una Costituzione. Guardi, la Costituzione è fatta di 9369 parole, è fatta negli anni 50, quando eravamo tutti ignoranti, c'era un laureato ogni 100.000 persone, avevamo una percentuale, quindi il grado di scolarizzazione era bassissimo. Quindi hanno fatto una Costituzione scrivendola per indirizzarla a persone ignoranti, perché erano persone colte e intelligenti. Allora hanno usato 9.639 parole, l'hanno divisa in periodi, 480 periodi e ogni periodo hanno detto qual è il numero di parole per cui è più comprensibile? Sotto le 20. E hanno fatto tutti gli articoli che sono sotto le 20 parole. Perché? Perché mio figlio le possa capire, perché uno che non ha una laurea le possa capire, è stata fatta da questi, da persone intelligenti, Calamandrei, Gentile, questa gente qui con delle teste bellissime. Oggi la media degli articoli della Costituzione sono da 150 a 200 parole, quindi oggi la Costituzione regge un impianto legislativo incomprensibile. È chiaro che bisogna modificare, ma questa gente non ci deve neanche guardarla alla Costituzione. Ci vorrebbero dei nuovi padri rifondatori? I nuovi padri fondatori è il Movimento 5 Stelle, sono i cittadini, sono i cittadini. Io non devo avere un costituzionalista che mi spiega la Costituzione, perché vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Immagina quindi una specie di Costituzione popolare? Una Costituzione magari votata, spiegata e votata, quello che facciamo noi. Quando noi facciamo dei passaggi dell'energia, votiamo delle domande preferite. Noi la legge elettorale l'abbiamo votata in rete, ci sono stati 8 settimane, ogni settimana votavamo proporzionale o non proporzionale, con le stecchiosi o aperte. Abbiamo votato e è venuta fuori una legge elettorale che va anche contro il Movimento 5 Stelle. Se dovessero applicare la nostra legge elettorale votata da noi, noi ne avremo forse un danno, più danno di questo qua, di questo Italo che hanno fatto. Con questo Italo se andiamo al ballottaggio vinciamo, lo sanno. Allora devono scogitare con i costituzionalisti qualche cosa per cui noi non possiamo avere i numeri, può poter andare alle elezioni. Noi vogliamo delle elezioni. Quindi se vincesse il no chiederete le elezioni? Ma in tutti i casi noi vogliamo le elezioni, perché questo Parlamento non è legittimato, quindi non siamo neanche legittimati noi. Questo governo ormai governa decreti legge, quindi è inutile che fare un Senato veloce, per velocizzare le leggi. Il 90% delle leggi sono decreti in 50 giorni alla media. Quando hanno fatto la Fornero ci hanno messo 20 giorni a farla. Quindi risparmio 500 milioni, ci tolga uno zero, sono 50 milioni. Poi metti al posto dei senatori dei sindaci e dei consiglieri regionali, che è la maggior parte di corruzione nelle regioni e nei comuni. Dato che in maggiori regioni e comuni ci sono il PD, la destra e la sinistra, non ci siamo noi, andrebbero lì dei sindaci e dei consiglieri. Qualche piccolo caso lo avete anche voi? Sì, sì, sì. La firma falsa non è una firma falsa, è una firma copiata, è l'Oscar della stupidità. Noi se siamo disonesti non riusciamo neanche a essere disonesti, quelle liste lì non è stata eletta nessuno. Immaginiamo siamo al 5 dicembre, ha vinto il no, chiedete le elezioni, chi candidate come Premier? No, noi stiamo adesso facendo una selezione già adesso di persone, ci vorranno un migliaio di persone. Quali sono i vostri criteri? Noi abbiamo 7 anni di vita, signora. Però dicembre è tra un mese, quindi meno di un mese, avrete le idee chiare se chiedete le elezioni. Noi se dobbiamo andare al governo, adesso ci stiamo cominciando a preparare per la selezionare le persone, non è facile. Dovete fare in fretta? Sì, stiamo facendo. Potete far passare il messaggio che sarà una scelta improvvisata all'ultimo minuto? No, no, no. Avrete le idee chiare? Se dobbiamo fare, possiamo mettere un paio di nomi sulla tavola? No, signora, no, lei sbaglia, se andiamo alle elezioni noi ci presenteremo con un Premier e con una squadra che andrà a governare prima. Non si possono far nomi per il momento? Prima no, prima no, perché saranno condivise dalla rete, noi condividiamo certe cose, signora io non posso permettermi di dire tu sì e tu no, tu vai. Ma lei si vedrebbe personalmente come capo del governo? No, 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 io sono escluso a priori, sono sempre stato escluso a priori. Volevo tornare un attimo sui distidi interni un po' al movimento che si sono cristallizzati recentemente intorno alla figura di Virginia Raggi, sindaco di Roma. Politicamente Virginia Raggi le sta dando soddisfazione? Molte, molte soddisfazioni. Per quale motivo? Perché è entrata in una superfettazione della corruzione di 50 anni, cioè lì è una millefoglie, Roma è una roba gigantesca, quindi una superfettazione di corruzione, panna, corruzione, panna. Ci sono 200 mila faldoni, di carta, muffita, umida, nelle cantine, 200 mila, sono 66 chilometri, l'abbiamo calcolato. È tutto un raccordo annullare di faldoni con dentro 30 anni di condoni mai riscossi, con tutto il patrimonio del comune e nessuno sa che case, ci sono 100-200 mila case, si prendono affitti da 10 Euro. Per esempio il Museo Vaticano, credo, i musei vaticani sono del comune, il comune non percepisce nessuna cosa, parleremo con Bergoglio, perché credo che non lo sappia. Comunque dentro quel sistema lì, completamente marcio da ogni ufficio, ogni ufficio, con un database a sé stante, quindi non c'era una coordinazione, con migliaia di persone, col trasporto, con autobus marci buttati lì, con apparati di sistema per i rifiuti rotti, i pezzi che mancavano, hanno trovato qualsiasi cosa. Questa ragazza è un'eroina. è un'eroina. Però perde forse di vista quelle che secondo i romani sono le priorità quotidiane, la corruzione è un lavoro a più lungo termine, però c'è la realtà quotidiana di Roma, è difficilissima, quindi le dà soddisfazioni ma non ai romani probabilmente. No, i romani dicono andiamo avanti, hanno capito che in tre mesi non puoi fare un miracolo. Ha perso comunque consenso, è stata eletta comunque con forte consenso, adesso cominciano a esserci forti dubbi sulle sue capacità di governare la città. Quindi ce l'hanno sempre, questo sistema vecchio, morto, di informazioni. Virginia Raggi decide da sola? Virginia Raggi decide, assolutamente sì. È il direttorio che ve li chiede consigli? Ma raramente. È una ragazza che adesso ha una squadra, ha avuto un po' di difficoltà a fare una squadra. Adesso ha una squadra che funziona, quindi fare squadra come l'Appendino a Torino, fanno squadra e vedrà le soddisfazioni che ci darà. Roma è più pulita, i lavori li fanno di notte. Ci ritroviamo tra un po' di tempo per parlarne. Io sono di Roma. Lei cerchi di capire che hai contro la regione, contro il governo, contro i flussi bancari. Però se si vuole cambiare il mondo e la classe politica, come ha detto, bisogna cominciare da qualche parte. Non possono cambiare prima gli altri bisogna iniziare. E lei provi a gestire una città che ha 15 miliardi. Doviene essere forza di propulsione dei cambiamenti. A 15 miliardi di debito. 15 miliardi. Adesso stanno vedendo dove sono gli sprechi. Hanno già raccolto 90 milioni di Euro che erano messi nelle municipali per la riparazione degli autos che non avvenneva. Non c'era neanche l'ufficio delle partecipate, perché le partecipate erano un luogo dove si spartivano i soldi. I vecchi funzionari dei partiti li mettevano lì nelle partecipate. Adesso abbiamo un manager che gestisce questa cosa qui. Ha creato un ufficio, un'equip di tecnici che vanno a vedere. Perché, per esempio, tanti documenti sono secretati, nascosti, non ce li danno. I faldoni hanno allagato, credo sono allagati le cantine dove l'hanno tenuto e hanno dichiarato inagibili i fondi per andare a prendere i faldoni. Allora, abbiamo uno che è stato minacciato, gli ha messo un congegno tipo bomba, diciamo tipo bomba semplice, tanto per dire il messaggino è quello. Sono ragazzi giovani con due fili che sono lì. È pericoloso. Quando noi chiediamo, vieni a fare l'assessore ai rifiuti a Roma, non viene nessuno. Tutti i grandi delle nicchie dei rifiuti zero, quelli che sono il riciclo, i rifiuti. Quando gli dice, vieni un po' lì a lavorare, non viene nessuno. Questa ragazza è un'eroina. E alle spalle solide, sufficientemente larghe per poter affrontare questa situazione. 15 ore al giorno. Poi può sbagliare, può fare delle cappelle, come chiunque umano. Lei non è umana perché lavora 15 ore. Mi dicono che esce a mezzanotte, a luna di notte. Normale quando si è un incarico del genere. È Roma. Io sono andato dentro una volta a salutarle. Giulio Cesare, una ragazza. Ci sono dei confronti un po' difficili da sostenere. Era su tutti i quotidiani del mondo. Un po' sbagliare una. Lei è stata perfetta. Quindi voi la sostenete? C'è pieno sostegno all'operato di Virginia Raggi. C'è qualcuno che dice che poteva scegliersi un altro piuttosto che quello lì, ma sono cose abbastanza normali. Lei riesce a tenere tutto sotto controllo? Questi movimenti interni al movimento? Sì, sì. Questi dissidi, queste rivalità? Sì, sì. Ma è giusto, è giusto. È giusto così. Riesce? Fa un po' da paterfamilia? Sì, faccio da pianificatore familiare. Pianificatore familiare. Allora cerco di incutere. Io incuto forse con il mio carattere, la mia personalità. Le ripeto, non sono un leader, ma sono uno che attratta comunicazione da tutta la vita. Però il movimento è sempre il posto in cui ognuno dice la propria, però alla fine è Beppe Grillo che decide, no? Chi decide nel movimento adesso? Il movimento. Il movimento? Il direttorio? Non c'è più il direttorio. Il direttorio? Virtualmente ancora ci sono comunque Si decide il programma, ci sono le commissioni, abbiamo un programma, quando le cose da decidere non sono nel programma si votano in rete. È semplice, è la cosa più semplice del mondo quello che vogliamo fare. È dare delle opportunità e dei mezzi a un cittadino di poter dire una cosa, un referendum propositivo, un bilancio partecipato, mettere in Costituzione per esempio che le leggi popolari si devono discutere in Parlamento. Quando siamo nati abbiamo raccolto 350 mila firme per mandare via, per esempio due legislature e mandare via i condannati in Parlamento, 350 mila firme in un giorno. Io ho questo compito di dire se tu sei condannato per qualcosa ti sospendo finché sei innocente, sennò te ne vai. Io ho questo, se menti nel tuo programma, noi abbiamo il codice etico, se tu vai fuori il codice etico io ti mando via, questo faccio. Vorrei concludere con una domanda sul futuro personale di Beppe Grillo. Beppe Grillo non sarà mai candidato a diventare Presidente del Consiglio in Italia, né Ministro né altri incarichi ufficiali nel caso in cui il Movimento 5 Stelle un giorno, un giorno, dovesse arrivare al governo. È la sua ultima parola. Arriva presto. Possiamo fare una previsione? Facciamo una previsione. Facciamo una scommessa finale. Ci ritroviamo dopo le elezioni. Vedrà se non butteranno fuori tutte cose sui giornali di nuovo, attacchi e hanno capito però che tutti questi attacchi poi si rigirano verso chi li manda e quindi bisogna stare molto attenti, la gente non ci cade più.